Nuova tappa alla scoperta dei presepi nelle abitazioni degli Adraniti. Oggi siamo stati a casa della signora Giussi in via Fogazzaro, la quale ha dato vita ad un piccolo presepe vivente. Un'idea sicuramente originale che la signora spiega ai nostri microfoni. L'abbiamo fatto con i bambini, più che altro è con i miei figli e i miei nipotini. L'idea è nata da mia mamma più che altro, perché aveva un fioretto da fare e quindi ha deciso di allestire questo. Poi ho aiutato nell'allestimento dei muri, delle luci, poi negli abiti abbiamo avuto anche qualche aiutino, perché alcuni vestiti raramente si trovano, quindi abbiamo pensato qualcuno di farlo noi, qualcuno di arrangiarci come potevamo meglio. Però da lì è nata l'idea e i bambini sono stati felicissimi, anche se un po' monellini nello stare fermi, però tutto sommato è riuscita come idea. Si spera che prossimo anno saranno un pochino più grandetti, perché come vedete sono bimbi piccolissimi. Devo dare comunque l'idea originale che avete avuto. Sì, sì. Allora, essendo credenti, essendo cristiani, l'idea è nata perché mia mamma, avendo ogni anno fatto il presepe, quello con i pastori giganti, non voleva realizzare il presepe classico e allora abbiamo pensato, diciamo, ma che fa, facciamo con i bambini? Dico, va bene, vediamo come va, come cosa, e pensavamo che non ci stavano fermi, però tutto sommato ce l'abbiamo fatta. Buon Natale. Grazie anche a voi, grazie mille, gentilissimi. Grazie mille, gentilissimi.